Quel giorno facevo cose da vecchietto normale, come ogni vecchietto. Quando a un certo punto senti bussare alla porta. Porca puttana! Salve vecchietto! Oh mio Dio, sei un cazzo di cane! Sai cosa fanno i cazzi di cane? Cosa fanno? Ti fanno c***o, troia! Come cazzo fai a stare ancora in piedi? Porca puttana! Socchiamo il cazzo, brutto coglione! Salve, mi chiamo Blitz e ovviamente la ho in muta. Ah, fottiti! Il mio obiettivo di oggi è ammazzare questo stronzo. Dio santo, questo non vuole proprio mollare! Sta mordendo! Io so allontanare i miei demoni. Se continui a rincorrermi, te la vedrai con le mie pillole. Oh cazzo, 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 cazzo! Ma poi accadde una cosa. Oh cazzo, sono fottuto! Sei finita le strette, vecchietto di merda! È ora di morire! Aspettiti! Aspettati, aspettati signore! Abbiamo sbagliato indirizzo! Ne sei sicuro? Il nostro bersaglio è un pazzo pazzoide in pantaloncini corti. Ah, ti riferisci a quello? Gesù è buono, brutti p***i! Gesù è anche il mio elmo! Aprite la porta. Salve signore. Siamo qui per una denuncia di schiamazzi. Oh oh, i cattivi ragazzi sono qui. Dove state andando? Poveraccio, è così solo che gioca a fare finta. Quest'arma non è come pensi. Cazzo! Non è da solo!